Salve a tutti e benvenuti nel canale, io sono Davide e come ogni settimana andremo a vedere le offerte alla Lidl per quanto riguarda gli attrezzi da lavoro della Parkside Offerte dal 18 al 24 settembre Beh, come al solito dicevo ci sarà un nuovo video ogni settimana, quindi se ancora non siete iscritti vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina E se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto Queste sono anticipazioni, il volantino cartaceo ancora non è uscito ma andiamo a vedere subito queste offerte Andiamo a vedere il primo articolo che troviamo, è il soffiatore aspiratore, trituratore per foglie, quindi tre prodotti in uno Questo è capace di aspirare le foglie ma anche di soffiarle via dal giardino Possiamo anche triturarle e queste andranno a finire in un sacco dotato di una cerniera Ha una regolazione del numero di giri su due livelli La velocità massima è di 270 km orari Con manico aggiuntivo per una guida migliore la potenza massima è 2600 watt di assorbimento Numero di giri che va da 12.000 fino a 15.000 con un volume di aspirazione di 12 metri cubi al minuto E il rapporto di triturazione è di massimo 10 a 1 Andiamo a vedere il bruciatore diserbante Questo si può utilizzare per diserbare, quindi tramite il calore va a bruciare le piante E fare in modo che le stesse non spuntino e non si propaghino all'interno del nostro giardino Ha una potenza di 2000 watt di assorbimento E insieme in dotazione ci viene fornito anche un ugello conico, un ugello a spatola e un ugello piatto Inoltre abbiamo anche un riduttore L'assorbimento è molto elevato, 2000 watt, e è molto simile a una comune pistola a aria calda È multifunzione però lo scopo principale appunto è quello di utilizzarlo come sistema Per andare a togliere le erbacce dal vialetto magari in autobloccanti E il prezzo è 39,99 Andiamo a vedere adesso la motosega a benzina Un oggetto molto serio Caratteristiche Accensione elettronica a corda Sistema antivibrazione Freno antirinculo E sistema di lubrificazione automatica della catena Cilindrata 53 cm³ Potenza motore massima 2 kW Numero di giri con lama e catena massimo 11.500 al minuto Velocità della catena massima 22,1 m al secondo Lunghezza di taglio 45 cm In dotazione cuffie antirumore Occhiali protettivi, fodero, attrezzo multifunzione, borse degli attrezzi Tannica per miscela, 500 ml di olio ecologico La lunghezza della lama è di 45 cm Serve appunto per andare a tagliare piante di grandi dimensioni Questo trezzo l'ho provato, funziona bene Qualche piccolo difetto l'ho riscontrato Però tutto sommato mi ritengo molto soddisfatto Troviamo anche il tagliasepe elettrico al costo di 59 euro Lui ha una lunghezza della lama di 66 cm Un po' cortina sinceramente per andare a raggiungere anche le aree quelle più distanti Caratteristiche Interruttore di sicurezza a due mani e freno meccanico per arresto rapido Minore di 0,5 secondi Custodia inclusa insieme Lunghezza della lama 66 cm Lunghezza di taglio massima 60 cm Spessore massimo di taglio 18 mm Un po' pochino è raffrontato da altri tagliasepe elettrici Potenza massima assorbita 600 watt Troviamo un raccoglitore per foglie ad erba Questo funziona senza batteria, va semplicemente a spinta Vedete ci sono delle rotine nella parte anteriore E è strutturato come un tagliaerba Però è molto più leggero Ha anche un sacco di raccolta Noi all'interno possiamo andare a mettere Tutte le foglie, tutta la pacciamatura che troviamo E in questo modo facilita le operazioni di sistemazione del giardino La larghezza è 55 cm La capacità del sacco invece è di 103 litri Viene scontato di un ulteriore 20% Il prezzo passa da 79 euro a 99 euro Troviamo una sega da giardino Al costo di 6,99 euro con una lama da 25 cm in acciaio Ha una clip che ci consente di reclinare la lama E può essere anche fissata alla cintura Abbiamo un sacco pieghevole dal giardino Da 272 litri a 4,99 euro Capace di sopportare un peso massimo di 65 kg Andiamo a pagina seguente Si fa per dire Andiamo a vedere gli attrezzi che ci saranno nel volantino Andiamo a vedere questo abitatore con percussione da 20 volt Lui funziona con la classica batteria della 20 volt team Il prezzo è 34,99 3 anni di garanzia naturalmente Questo non è il modello brushless Ma è quello un po' più economico È il classico trapano Che avete già visto qui nel video Con l'impugnatura anche per la mano sinistra È molto potente E il prezzo 34,99 è un prezzo interessante Andiamo a vedere questo faro a led ricaricabile a 34,99 Questo è molto pratico perché si inclina Vedete ha un supporto di posizionamento a terra Può essere utilizzato sia con la batteria 20 volt Che con la batteria da 12 volt Quindi è molto versatile Andiamo a vedere la pistola spara punti Che costerà 49 euro E lo stesso giorno ci sarà anche un set di graffe e chiodi Offerta a 3,99 euro Troviamo un seghetto a pendolo a batteria Che abbiamo visto anche nei volantini precedenti 39,99 Compatibile con la batteria 20 volt team Il seghetto è inclinabile anche nella direzione dove andiamo a fare il taglio È molto versatile Quindi anche l'angolo di taglio può essere regolato Non semplicemente un azionamento verticale Ma può essere anche messo per fare tagli obliqui Troviamo una guida di bloccaggio di taglio A 11,99 euro Sempre abbinata al seghetto a pendolo Può essere molto utile Se dobbiamo andare a tagliare dei pannelli In maniera geometricamente corretta Pulita Quindi tagli e dritti Troviamo la batteria da 2 ampere Con il caricabatteria a 24,99 euro In alternativa abbiamo la batteria da 4 ampere Quindi con una capacità superiore E una durata superiore Capace anche di interfacciarsi agli attrezzi Della serie Performance E di poterla gestire O comunque avere accesso a tutta una serie di informazioni Tramite l'applicazione sullo smartphone Il prezzo è 39,99 euro E per alcuni attrezzi è veramente consigliabile comprare questa Anche questo l'articolo già visto Nelle precedenti uscite a 29,99 euro Troviamo la smerigliatrice eccentrica ricaricabile Un ottimo prezzo con 3 anni di garanzia E sempre nello stesso volantino Ci saranno delle carte abrasive per levigatura Andiamo a vedere un adattatore per batteria con luce a led Possiamo utilizzarla sia per la luce Che per ricaricare gli utensili O comunque il telefonino o altre cose A 19,99 euro Un oggetto interessante anche questo Ultimo attrezzo Andiamoci a vedere questa levigatrice O smerigliatrice Però assiale Ricaricabile Quindi a penna E compatibile con la batteria 20 volt team Che viene proposta al prezzo di 49 euro Naturalmente senza batteria Senza carica batteria Incluso nella dotazione Bene Abbiamo finito Gli utensili Della Parkside Per quanto riguarda Il prossimo volantino Della Lidl Come vi ho detto Questa è un'anticipazione Non sono riuscito a recuperare Le offerte del Super Weekend Quindi le vedremo Successivamente insieme Magari ne parleremo qua sotto nei commenti Ci vediamo in un prossimo video Alla prossima Ciao Ciao